E arriva sempre quello che si mette in mezzo Vattene Dai Vattene Vattene Perché Ma perché esiste gente così? C'è Levati Uno si mette sul podio per fare il video E arrivano tutti quanti Secondo me hanno capito Sì secondo me hanno capito tutti qua Vabbè passate dal canale di Minecraft Non sarà neanche un canale Ragazzi siamo sullo Skywars E sono con Dammi the Gamer Dammi the Gamer Bella Bella E oggi faremo un po' di Skywars Se fate anche voi un bel gameplay Ci sarà un premium come scritto in questo cartello Nascostissimo contest Che potete vedere più o meno ovunque Io direi che dopo questo minuto Fermi qua Possiamo iniziare a muoverci O dici che No no possiamo stare qua ancora Aspetta vatti cinque Contest Contest Non è nostro però Io direi che possiamo partire Ok iniziamo Aspetta hai qualcosa da aggiungere? No che no No aspetta cambiamo posto Non mi piace come abbiamo iniziato No vai al mio posto Nel senso nell'altro 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 gu Ecco così è perfetto Non è più bello Aspetta forse ci giriamo è ancora più bello Ok possiamo andare Ok Ok sostanzialmente questo minigames Consiste nel distruggere le isole avversarie E E Dominare il mondo Giusto? No ti sei già buttato Dovevi aspettarmi Vedi se leggi il mio bella? Sì sì lo leggo Ah boh siamo nella stessa partita Perfetto Siamo nella mappa deserto tipo Senti che strategia adottiamo? Tu che sei bravissimo in queste mappe Spacca 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 Ho fatto praticamente Bordello Ho buttato già uno Ho buttato già uno No è caduto sotto Occhio C'è uno che si è creato un recinto Ma perché è un recinto? Tipo adesso sembri un Le posso ammazzare con le uova? Devi fare una farm Buttamolo giù va Sì sì anche le uova funzionano Sì Dove sei di bello? Non è che sei tu quello che faccio? Sono in isolate deserta Prendi il sole Sì No cadi Maledetto Non ho più palle di neve È un dramma Faccio quello che non da pesca No mi ha ucciso Mi ha ucciso Maledetto Mi ha preso la sprovvista Rieccoci ragazzi Bentornati E proviamo di nuovo Ma è normale che uno inizia a cacciare la barra della fame a metà? No io ce l'ho a mentira E io perché ce l'ho a mentira? Ah Che tipo sei riempita È un trucco Ah L'ho colpito E l'ho ucciso Occhio Anche te uno ti sta sparando Ci siamo quasi eh Sto arrivando Nooo Ma chi è stato? Cosa? Sei stato tu Veramente io non sono quello Quello è bocchino 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 così si chiama Sì è vero bocchino Potete leggerlo in alto a destra Mi ha ucciso Maledetto Ci sei? Sì E di mio bella? Di nuovo No Mi hanno chiccato per spam Ma non puoi chiccare una persona per spam Quando uno gli scrive bella Dai Perché? E poi bella non posso scrivertelo minuscolo Dai Non è giusto Scusami eh Tornerò Tornerò subito E voi non capite un cavolo Gente che crea anti-spam Che togli bella Eccoci Stavolta lo scrivi tu bella Andiamo Andiamo Dai facciamo un conto alla rovescia più innovativo Come? Non lo so Prova Tipo iniziamo al 2 5 4 3 3 2 2 Boh Chissà se ci sei Sì sì Sono lì Aspetta te lo chiedo Ci sei? Sì sì Neve Ho un'idea Facciamo un po' pazzo di neve Quanto tempo ci vorrà Abbiamo anche le zucche Sì a me sta una zucca Poi Sì sì È pericolosissimo Bene 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 Perché la mia cesta è vuota? Non è giusto No Ci sono rimasto malissimo Sono sempre pieno Davvero è vuota? Sì è vuotissima Che cavolo di isola mi è andato Davvero No non si può A me sta una zucca Almeno un'altra L'altra L'altra Sì Nulla di buono Ho la lava tipo però Dai Ci sono rimasto malissimo Non è giusto Ho una corazza intera Oltretutto Mangiamoci una bella mela d'oro Cos'è successo? Che cos'è? Tipo sei apparsa una cesta Mentre No ti giuro Ho cliccato la neve E' apparsa una cesta Non è che è la cesta Di prima che si è riempito No Forse Perché mi capitano ste cose? Ah forse questa Sì Ah Per fare il blocco di neve Dovevo metterli a forma di quadrato Due per due Eppure tutto? Secondo me a forma di quadrato Due per due Non due per due Dall'alto nel senso Cioè uno sopra l'altro E basta E poi il terzo la zucca Uno, due Ok ho fatto E' nato? Sì Un attimo adesso lo faccio Spacco il ghiaccio Sì Io sto facendo una specie di Castello Torre D'osservazione Son morto E come? Son morto Senza niente Non è possibile Son morto Sei tutta la vita da solo Sei morto così? Sì Mi mancherai Boh Non capisco sta partita sinceramente Cosa stia succedendo Boh Aspetto che finisci Eh certo Non era la domanda Era un'osservazione Sì 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 ovvio Ho creato Una trappola bellissima Adesso la vedrai Spero anche che qualcuno ci Casi No Sto Come faccio a vederla Se non c'è nemmeno La modalità spettatura Nel mio video Come farai? Eh ok Questa tecnica secondo me Può funzionare Sto in pratica Ho creato un buco Dove C'è la lava No no dove Eh sì più o meno Nel senso non so se ci metto la lava O buco tutta l'isola proprio No Maledetti Maledetti In due No pure in due non vale Non vale però così dai Yes 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 8 4 2 Non ci incontreremo mai Ok ok Ci 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 Sei tu Sì sì Ok perfetto L'albero Sono sull'albero Non ha nessun No Ma deve ancora iniziare Non è possibile che sono già sull'albero Io invece assisto No ma tipo leggevo Guarda giù Guarda giù Guarda giù Giù Da qui Sto scendendo No non giù lì Oddio D'altra parte Ho un'isola complicatissima Tipo Ha una strada per scendere Una per salire Un attimo vengo io da te Vieni a vedere la mia isola Ti prego Tipo di solito ce la c'è C'è qualcosa No 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 Aia Ti ho visto volare giù Vingi vingi Vendicami Ce la posso fare Ce la posso fare Ah Uccidiamo quello Ma si è spostato dalla grande Non va Boh Una spada in diamante Usiamo la tecnica torre Adesso sto facendo No ho raggiunto Il limite della mappa Sono nel punto più alto Adesso sto adottando La strategia dell'osservazione Nel senso Sì ma se ti prendono Ma cadi E non c'entri nemmeno Il terreno Hai perso Eh Quello potrebbe essere un problema Già Non mi butterai mai giù No E invece si Dove sei Mi sto dando fuoco Non l'ho fatto apposto In realtà Mi sono dato fuoco Mi spiace Proviamo di nuovo Ok l'ultima volta Ne vinceremo uno almeno Vai l'ultima Eh E tu E tu con la rovescia Eh no Eri abituato bene Adesso Non si fa più E' passato di moda Via Via Yes Ci siamo Mi sa E' una mappa cactus Tipo Sabbia E' certo E' certo E' chiamare Una mappa cactus 10 secondi Vai Aia Vieni qui Vieni qui Vieni qui Dove Aspetta arrivo Faccio una torre di cactus No Non può funzionare Non si può salire Già Non si può mettere Un cactus Sopra l'altro Non si può salire Facendo una torre di cactus Guarda che scoperte Che faccio Comunque Non si può nemmeno Mettere un cactus Sopra l'altro Hai ragione Devo aspettare che cresce Sì No Mi sta picchiando Un No Non sono riuscito a fare nulla Sì ma no Arrivano alle spalle Quando nessuno Se lo aspetta Infatti Ciao Vieni qua Concludiamo il video In bellezza E Per questo Per questo video Fai un passo indietro Ti voglio far finire nel portale Vabbè per questo video è tutto E dai Dove stai? Cos'è il saluto Devo farlo solo io Sì Sono qua No Andiamola in cima Ti prego Ok No Non ci sono riuscito Ok Possiamo rinunciare Dove stai? Ecco qua Scendi Anzi Ti raggiungo io E finiamo Aspetta Ti raggiungo io E finiamo Dai Beh ragazzi Per questo video è tutto Spero che vi sia piaciuto Ci abbiamo messo tutto il nostro impegno Ciao 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 Grazie per la visione!